Io lo amo però, e partiamo da questo, però? Però come ho detto sicuramente qua dentro per me è stato un percorso personale che mi ha fatto maturare, crescere e anche prendere consapevolezza della persona che sono quanto sia importante per me difendere le mie idee. Il nostro rapporto sicuramente, il mio e quello di Giuliano è stato molto spesso basato sul fatto che io fossi sicuramente in una fase della mia vita in cui sono stata molto debole questa volta lo dico io, sono stata molto debole e quindi lui ha avuto molto potere perché glielo ho concesso ovviamente io su di me è sempre stata la mia guida e io ho affidato tutto a lui e a volte accantonando quello che in realtà pensavo Guarda che tu stai dicendo una cosa importantissima Rosalinda, chissà quante donne si rispecchiano e anche quanti uomini si rispecchiano nelle tue parole Io stavo in un momento di grande debolezza psicologica, ho trovato in lui la forza, il sostegno, mi ci sono aggrappata perché in quel momento ne avevo bisogno looks d'ora Graticato Grazie Quattro Grazie ein